BELLA A TUTTI DA PORK MODS Oggi facciamo gare stante numero 19 Sono con la nuova auto, la PRISTER Non so manco come si pronuncia, è strano come si chiama 811, mi sa è meglio chiamarla 811 Dai pure col turbo sono partito Comunque l'ho provata per strada E devo dire che è molto carina quest'auto Allora dai raga Ah questa è pure una gara moddata Eccolo, guardate c'è una super spirale con gli UFO Dai, prima posizione sto, perfetto Dove stanno gli altri? Tutti dietro di me Frena, frena, frena Mi sa che quest'auto non gira tantissimo E manco frena tanto Però devo dire che c'ha tenuta di strada quello si Va abbastanza bene Vediamo che non sbagliare la spirale Oh Dio mio, vedete raga non gira Dai raga guardate che c'è sto Ce la devo fare, ce la devo fare Dai Jesuino Dai Jesuino, ce la devi fare Ce la devi fare Vai, 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 grandissimo Grande Jesuino Perfetto raga No, ho sbagliato, ho sbagliato No, 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 no Ci sono raga Madonna mia Madonna mia raga Grandissimo Ci potevo sparare tipo qualche trick Mannaggia a me Ma al prossimo giro ci provo raga Ci provo Dai, è sempre nella posizione Dove stanno gli altri? Tutti là dietro Dai, continua Continua Ora dove sta l'altro checkpoint Per fare il secondo giro Che è una rampa questa? Vediamo Sì raga Perfetto È fighissima però Lagga un po' però Devo di sta spirale Perché è fatta con gli ufo Allora dai Andiamo qua Perfetto Proseguiamo tranquillamente Qui Tanto non c'è niente di che E qui ci dovrebbe essere Il checkpoint del secondo giro Sì Perfetto Ok raga Ora riprendiamo subito A fare la super spirale Ufosa Come si chiama Dai Giriamo anche qua Perfetto Questi non ce la fanno a farla Mi sa Ma è pure abbastanza facile Dai 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 Voglio subito farla aspirare Raga Così almeno ci butto subito Un bel trick Un bel 360 No Dai 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 Perfetto Raga Ok Sta macchina Cioè È un po' difficile da portare Perché non gira tantissimo Oddio Non mi ne ho sbatti Spostate No Ok ok Raga Perfetto Vai 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 Oh Sì 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 raga Oddio Era andato leggermente De fuori eh Oh c'è qualcuno qua No Spostate E Checkpoint l'ha preso però Oh raga Mi devo girare di qua Volevo fare trick Però non faccio in tempo Mannaggia E niente raga Sempre in mia posizione Sì Perfetto Dai Proseguiamo tranquillamente Questa gara è andata Abbastanza facile Siamo in 5 Oh Perché quando guardo La lista amici Vado sempre a sbatti A momenti Mannaggia a me La lista dei giocatori Qua No la lista amici Qua c'è sta Lugo Vai sarta Perfetto Ma tra poco Finisce pure È durata 3 minuti 3 minuti e mezzo Durerà Non so No no Pure di meno Dai Qua ci dovrebbe essere Il traguardo Eccolo Oh guarda Non gira st'auto Dai E prima posizione Prossima gara Nuova gara Sono sempre con la Vister 811 E in gara c'è un suino Che si è chiamato come me Porkmoz 105 Allucinante Via via Raga partiamo subito Dai Questa anche questa gara È moddata Dove bisogna andare di qua Ok Perfetto Stanno tutti qua dietro Oddio Uno ha preso pure la Proto Oddio Raga Ditemi anche voi Se a voi vi gira bene O no Che ancora non ci ho capito niente Come si porta bene Cioè come va a portata Quest'auto Dai Perfetto Oh mio dio Che ci sta Raga Che ci sarà Dai perfetto Oh raga Numeri Numeri Rigirate bene Sì Perfetto Che poi manco l'ho fatta apposta Vedrò andare troppo in avanti Ho detto Vabbè Famo sto front flip Perfetto Raga Ok Giriamo qui Tranquillamente Sempre prima posizione Stanno qua dietro però C'è un pork mods 105 Non so se l'avete visto Ok Andiamo qua Proseguiamo sempre qui Tanto non c'è niente da fare Andiamo pure qua sotto Dai Oddio Perfetto Perfetto L'ho tenuta la macchina Frena poco poco Sì La tenuta c'è là C'è aderenza a quest'auto Ed è buona Vorrei provarla pure nei wall ride Oddio Oddio Raga se parte subito Sì 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 No 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 Sì Raga non c'è stacca di niente Oh Numeri No Niente numeri Però mi sa Do prendere un po' di velocità Allora guardate dove sto Ma non si capisce niente Vai 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 Ce la farà Ce la farà Raga non lo so Non lo so Sì Preso il check point Raga altri numeri Madonna Mirzuino No Andate a sbatti Perfetto Dai Stanno ancora a larga Che è successo oggi Sempre primo Ma annoio Ma annoio Raga Dai prosegui Prosegui Tranquillamente Oh Buono 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 Ok Giriamo Qui Dove Prendere proprio il semaforo Mannaggia a me Comunque sia Quest'auto Devo dire che È buona Però non gira tanto Scrivetemelo anche voi Se Non ci ho capito niente Di la verità Di quest'auto Guardate raga Non la sopportava Non la sopportava in niente Tanto ancora So primo Ok Andiamo qua Tranquillamente E niente Raga Facciamo sto rettilineo Quanti giri Se ho Vediamo subito Due giri Ecco qua Ma qua Scatta il secondo giro Se non sbaglio No Ho sbagliato Oh raga Ma che succede Tipo Ma Ma Ha fatto il drift Senza motivo Grandissima Eccolo raga Il porco Mozz 105 Dai Ecco qua Qua si deve concludere Il primo giro No Sì sì Perfetto Ora Il secondo giro Raga Stavolta Non voglio sbagliare Proprio niente Ci buttiamo pure Qualche numero Va Dai Saluto Focus Che vuole essere Salutato Raga Salutamolo Ok Vai 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 Perfetto Ah raga Le faccio tutte Dallo stesso colore Le auto Però poi Arriverà il giorno In cui Le farò diversamente Sì Perfetto Per adesso Le faccio tutte così Perché mi piacciono così Poi Cambierò il colore E farò tutto Oh Prena Perfetto Ho tutti E scrivono bella suino Raga Fate la gara Fate la gara Non vi fermate Dai Proseguiamo No Sei pure suicidato In due Pure il porcmoz Si è suicidato Dai 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 Tra poco ci dovrebbe essere Il Quella spirale Là Che cavolo è Oh Madonna mia Dai Proseguiamo tranquillamente Qua Dai Ok Ok Ma c'è sta Quello a fare Che sta qui Eccolo Eccolo Madonna mia Vedo l'ora di farlo Vai 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 Che poi Oh Guarda dove si è messo Oh Io non ce capisco niente Con queste gara Avete visto Era invisibile Andava uguale Dai Ecco Stanno tutti qua Ah Hanno preso sta macchina Ecco perché non ce la fanno Sta macchina Li capisco pure Perché È veramente difficile Da usare Quella Dai 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 E poi è tutto automatico Non è che devi girare tanto Sempre così No Perfetto Cioè in pratica Basta che acceleri E basta Non ti fa niente di che Facciamo i numeri però Alla perfezione Madonna Il suino Perfetto Dai Proseguiamo anche qua Tranquillamente Tanto qua ci stanno Le bancarelle Della frutta Prendiamo anche Quest'altro checkpoint Dai dai Corri Corri Però va abbastanza veloce Quest'auto Ma non so se Supera le altre Non si sa Dai Prosegui Prosegui Prendiamo anche questo checkpoint E tra poco ci dovrebbe essere Il traguardo Dove sta il traguardo Dove si trova Più che altro Ste gare Sono fatte per provare Ho fatto queste due gare Per provare Questa nuova auto Se no facevo un bel parkour E niente Dove sta Dove sta Il traguardo Ecco Tra poco Tra poco arriva Tra poco arriva Il traguardo Dove ti trovi Giriamo Di qua Regà Qua è dove va fatto Il drift Strano Giriamo anche Qui Perfetto Ecco il traguardo Regà Io lo taglierei Proprio Da Suino pro In retromarcia Prima posizione Se volete Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi Al canale Seguitemi Su Instagram E ora passi Saluti Bella Suini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.